Continuano a calare i contagi in Campania, confermando un trend positivo che fa ben sperare. Nell'ultimo bollettino dell'unità di crisi sono 634 i casi registrati con la curva che si attesta a poco più del 4%. Nel report si contano anche 19 decessi e oltre 1.500 guariti. De Luca ribadisce l'impegno per immunizzare le località turistiche e detta i tempi della campagna. Sabato mattina completiamo l'immunizzazione di tutta l'isola di Ischia e quindi completiamo Procida, Capri e Ischia. Poi passiamo immediatamente dopo a Campi Flegrei, Costiera Sorrentina, Costiera Malfitana e Cilentana. Quindi daremo priorità alla vaccinazione su questi territori per ragioni non solo economiche, ma perché dobbiamo prevedere che nei prossimi mesi avremo centinaia e migliaia di persone che arriveranno in questi territori e quindi è necessario anche in termini di tutela sanitaria. Parole, quelle del governatore, pronunciate a margine dell'inaugurazione a battipaglia del primo centro vaccinale riservato ai lavoratori agricoli, allestito presso l'ex fabbrica dei Sapori. L'avvio della campagna vaccinazione qui ci aiuta davvero a immunizzare un comparto decisivo delle nostre forze produttive. Stamattina partiamo con questo centro vaccinale che è il primo in Italia ed è un'esperienza fantastica che abbiamo messo giù come Confagricoltura Salerno. contiamo di terminare le vaccinazioni di tutti gli operai agricoli della provincia di Salerno, sia nostri associati che non, in modo da metterci alle spalle questo periodo e riprendere di nuovo la nostra attività.